Il big killer continua a colpire. Il tumore al polmone viene chiamato così perché purtroppo ad oggi, nonostante i progressi della medicina, resta il più letale. Solo 15 persone su 100 sopravvivono a 5 anni dalla diagnosi. Il fumo di sigaretta è tra le principali cause che provocano l'insorgenza della malattia, ma è stata scoperta anche una correlazione con lo smog. Questo spiegherebbe perché a Piacenza, città tra le più inquinate d'Europa, l'incidenza aumenta. Nel 2018 solo nel reparto di pneumologia della nostra città si sono registrati 183 nuovi casi. Un numero crescente se si considera che nel 2015 erano stati 147, nel 2016 161. Il fatto di rischio di sicuro è il fumo. Il fumo di sigaretta, 9 persone su 10 che hanno tumore al polmone fumano e poi sicuramente l'inquinamento, le esposizioni professionali, ma l'inquinamento gioca anche a ruolo importante. Quindi la prima cosa da fare però è far smettere di fumare le persone. È un tumore che aumenta anche tra le donne? C'è una piccolissima differenza nelle donne. Nelle donne spesso, quelle giovani, si hanno dei tumori non legati al fumo. Le donne potrebbero avere delle alterazioni genetiche che non hanno rapporto col fumo di sigaretta e che risentirebbero di nuovi farmaci che abbiamo anche qua a Piacenza a disposizione perché purtroppo negli ultimi 40 anni la mortalità per il tumore del polmone è rimasta invariata. Oggi sono disponibili sul mercato nuovi farmaci legati al profilo genetico del malato ma per fare diagnosi precoci e sempre più precise servono tecnologie all'avanguardia. Il primario si appella alla generosità dei piacentini per l'acquisto di un macchinario di ultima generazione del costo di 150 mila euro. Per poter essere un po' più efficaci nella lotta, nella diagnosi di questa malattia noi avremo bisogno di avere anche un appotenziamento tecnologico. C'è uno strumento che si chiama E-Bus l'ecoendoscopia che ci permetterebbe di essere ancora più precisi nei prelievi diagnostici bronchiali. Questo ci potrebbe anche, anzi ci dà sicuramente la possibilità di fornire al patologo molto campione su cui fare tantissimi esami. Sarebbe molto bello che i piacentini hanno sempre un cuore d'oro, che ci dessero una mano, penso le associazioni, le fondazioni eccetera, perché è uno strumento che ahimè serve non soltanto nella diagnostica del tumore del polmone, lo potremmo usare anche in altri tipi di patologie, ma è uno strumento che ci permetterebbe di fare quel salto di qualità che porterebbe la pneumogene dermatistica di Piacenza allo stesso livello delle migliori pneumogene dermatistiche nazionali. Intanto in questi giorni si è registrato un boom di polmoniti presso l'ospedale di Piacenza e torna sotto i riflettori il problema della disponibilità di letti presso il reparto che ne conta solo 12 a confronto di una realtà simile alla nostra come quella di Cremona che dispone di 28 posti letto. Grazie.